Salve amici del Centro Meteo Italiano. Debole fronte in transito al ridosso del weekend. Evoluzione simile anche per la prossima settimana, ma vediamo gli ultimi aggiornamenti. Nella seconda parte di venerdì ecco una blanda saccatura in scorrimento sull'Italia, la quale porterà fenomeni sparsi su un medio versante adriatico e poi al sud. Temperature in calo con neve sui rilievi che entro la notte dovrebbe scendere fin verso i 600-1000 metri. Weekend che sarà comunque stabile grazie ad un vasto anticiclone tra Atlantico ed Europa occidentale e con temperature in media o poco sopra, specie al nord. Situazione sinottica ai primi giorni di febbraio che vedrà ancora un robusto anticiclone sull'Atlantico e aria fredda verso l'Europa orientale. Italia sfiorata dall'ennesimo fronte freddo che produrrebbe un modesto calo delle temperature e precipitazioni sempre sui medesimi settori. Per ulteriori dettagli seguite allora come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.